Buonasera a tutti ragazzi di Malati per le Cripto, sempre qui con Fabrizio Ferreri, il vostro analista tecnico. Allora, a grande richiesta vado subito a fare analisi su Shiba Inu. Shiba Inu che non dimostra alcuna indicazione di eventuale ripresa, c'è un mercato assolutamente ribassista e oggettivamente proprio mancano le basi per una possibile inversione. Ovviamente c'è un livello che ho indicato pochi giorni fa, questo livello qua, che reputo assolutamente importantissimo. Quindi a questo punto si passa al testimone, hai 106 il livello che è sugli 88, perché diventa molto importante superarlo per vedere eventualmente una probabile ripartenza di Shiba Inu. Shiba Inu che comunque non dimostra veramente forza. Questa candela di ieri, che potremmo definire un hammer in un certo senso, nonostante il corpo sia abbondante, abbiamo questa ombra molto grossa sotto il corpo della candela giornaliera, che comunque al momento dovrebbe essere confermata una eventuale inversione con almeno una candela rialzista forte. Momentaneamente non c'è e quindi il trend rimane ribassista. Per quello che riguarda Shiba Inu o Shiba Inu è tutto, ragazzi, per chi si fosse connesso solo oggi col canale, ecco, vi consiglio di iscrivervi e mi raccomando, non perdetevi tutte le analisi che pubblicherò in questi giorni e che già ho pubblicato. Insomma, ci vediamo presto, saranno per uscire altre analisi, quindi mi raccomando, connessi e belli, dinamici, perché su Malati per le Crypto non si perde tempo, ma soltanto il top delle analisi delle criptovalute.